amici di unibet eccoci qua a presentare la partita di stasera inter fiorentina è la prima partita in casa dopo l'eliminazione di europa league quindi mi aspetto una gara importante da parte dell'inter perché di fronte ai propri tifosi dovrà cercare appunto di portare a casa i tre punti e poi per quanto riguarda pioli dovrà cercare di vedere appunto su chi puntare perché adesso non avendo molte competizioni l'inter dovrà ridurre la rosa mi aspetto una gara di una squadra corta aggressiva col con la voglia di fare la voglia di vincere e pioli lì dovrà essere bravo a scegliere i giocatori giusti per proseguire questa rincorsa nelle zone alte della classifica perché l'inter il reale valore secondo me non è questa posizione classifica mi incuriosisce il duello brozovic e bernardeschi perché bernardeschi un giocatore che so che piace all'inter quindi a livello tattico mi aspetto un inter arrembante di fronte ai propri tifosi il risultato 3 1 per l'inter sono sempre evaristo scusate se insisto